Qui a Colle Beato ma anche fiori, perché c'è un fiore veramente tipico che viene coltivato qui, sto parlando della camellia. Colle Beato ha dato i Natali a questo fiore nel 1850, è stata creata questa varietà di camellia vergine di Colle Beato, proprio qui nel parco Primo Maggio che abbiamo qua vicino e si può vedere in internet cliccando sul sito camellia vergine di Colle Beato troverete immagini, storia e tutto quello che può riguardare questa varietà di una camellia eccezionale. Ti racconti un po' la storia di questo fiore? Allora, diciamo che l'origine della camellia risale all'oriente, il Giappone, la Cina, però la camellia è anche la pianta del tè, è la cugina del tè per intendersi. Le foglie della camellia assomigliano quindi anche alla magnolia, però come sapete la magnolia non fa il tè buono, quindi portando dall'oriente quello che doveva essere la pianta del tè, i cinesi e i giapponesi sono stati più furbi e ci hanno dato questa pianta che però si può fare il tè. Grazie 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 a tutti.